amiche amici bianconeri buongiorno ben trovati qui sul canale sabato 4 novembre è terminata non da molto la conferenza stampa di max allegri in proiezione fiorentina juventus e allora qui insieme per commentare le parole del tecnico e cercare così di fare un pochino il punto della situazione ma soprattutto capire le sensazioni le idee e capire anche quelle che sono le vostre considerazioni e sensazioni sulla sfida di domani sera dell'artemio franchi che stando alle ultime dovrebbe disputarsi anche in funzione di una condizione meteo in via di miglioramento prima di sviluppare il tutto vi invito sempre qualora non lo foste a iscrivervi al mio canale youtube azionando la campagna di notifica e mettendo un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata sperando possa essere stata di vostro gradimento ovviamente come già fatto ieri mi unisco all'esordio in conferenza di max allegri un pensiero per tutte le popolazioni che in questo momento stanno vivendo momenti difficili e che hanno problemi ben superiori e ben più gravi di una eventuale sconfitta di una partita di calcio o di pensare ad una partita di calcio purtroppo questi episodi sono sempre più frequenti e speriamo che si possa fare davvero qualcosa affinché questi non continuino non continuino a segnare le vite di tutti quanti noi venendo alle parole di massimiliano allegri allora intanto facendo un punto sugli infortunati è emerso contrariamente a quanto avevamo paventato o lui stesso aveva paventato mi riferisco a danilo di un possibile ritorno imminente in campo è emerso che addirittura tra alexandro e danilo il primo cioè alexandro sarebbe più avanti quindi più probabile un suo pronto ritorno rispetto a quello di danilo che allegri auspica di poter avere disponibile per la sfida contro l'inter ovvero dopo la sosta delle nazionali quindi né ovviamente oggi né cioè domani né ovviamente la prossima in casa con il cagliari danilo sarà a disposizione sul fronte de ciglio ancora un mesetto prima che possa riaggregarsi alla squadra e poi ovviamente il concetto relativo all'informatica è scivolato sulla questione jorge wea che se jorge scusate timo di wea che ovviamente non sarà a disposizione e a precisa domanda il tecnico ha risposto se l'assenza di wea costituzione il tecnico a cambiare modulo oppure si insisterà nella stessa identica maniera diciamo che l'indicazione doppia ovvero o mckenny sarà trasferito sulla corsia di destra al posto di wea oppure non esclude anche di giocare in un modo diverso a tal proposito domanda anche su cambiaso che poteva essere un candidato potrebbe essere poteva essere un candidato alla sostituzione di wea in realtà allegri per come si è espresso ha detto è molto probabile che mckenny si sposti sull'auto di destra e questo potrebbe comportare l'inserimento di miretti nella posizione già occupata domenica scorsa quando fu chiamato in causa al posto appunto dell'infortunato wea e quindi mckenny con miretti interno o addirittura o addirittura lui ha parlato anche dell'impiego di cambiaso e di healing junior come centrocampisti quindi non è escluso che nella sua testa magari a gare in corso ci possa essere anche una sorpresa un'allegrata quella di inserire tra le mezzeali o healing junior o cambiaso la speranza è che healing junior possa ricominciare ad avere un certo minutaggio perché così stando la situazione è palese la sua partenza nel mercato di gennaio lui stesso prima di pensare ad un eventuale rinnovo proposto gli dalla juventus vuole vederci chiaro vuol capire quale minutaggio gli può essere riservato e poi inevitabilmente la situazione è scivolata sull'argomento attacco perché è indubbio che nonostante la sostituzione nonostante il non essere arrivato a trovare un gol valido moise ken in questo momento sia l'attaccante più in forma quello al quale personalmente non rinuncerei mai nella sfida di domani perché ancora blachovic e chiesa sono alla ricerca della miglior condizione hanno affrontato la prima settimana di allenamenti completi dopo i loro acciacchi che li hanno tenuti fuori dalle convocazioni per le rispettive nazionali che li hanno visti rientrare così un po' a spizzichi e bocconi o comunque ancora non nella miglior condizione blachovic la sua prestazione contro il verona è stata altamente negativa quella di chiesa decisamente meglio ma ancora non abbiamo non abbiamo ancora un ritorno a quella che era la loro condizione ad inizio stagione quando il duo era ovviamente il miglior la miglior coppia d'attacco della serie a e allora domani sera pur non facendo nomi lascia presagire che possa esserci una sorta di staffetta perché su ken ha parlato molto bene che è in crescita è maturato molto da un punto di vista tecnico e fisico sta molto bene sta molto bene anche blachovic che appunto si è allenato e ha abbandonato i problemi di dolori alla schiena e lo stesso federico chiesa che è in recupero dalla situazione che lo ha tenuto un po' lontano dai giochi per circa 10-15 giorni vediamo che cosa opterà su che cosa punterà massimiliano allegri però la sensazione è che moise ken potrebbe trovare una maglia da titolare magari accanto a blachovic con chiesa pronta ad entrare per spaccare le partite tra l'altro quella di chiesa sarà la prima da avversario contro la fiorentina credo sia la quinta partita da quando ha lasciato la fiorentina ed si è trasferito alla juve ma ad oggi non c'era ancora stata la possibilità di vederlo impegnato all'artemio franchi d'avversario domani sera dovrebbe essere appunto la sua prima stessa situazione invece per blachovic che già è stato avversario ma sulla quale si è soffermato lo stesso allegri in relazione a quello che è un po' la pressione che l'artemio franchi può mettere sulla coppia d'attacco di due giocatori appunto che sono stati beniamini ed anche giocatori importanti della fiorentina una fiorentina tra l'altro che viene da due sconfitte consecutive che è sei lunghesse staccata dalla juventus una juventus e che quindi farà di tutto per interrompere la striscia di sconfitte che è a quota 2 e di accorciare sulla juventus una juventus che giocherà domani sera conoscendo un po' i risultati di tutte le sue competitor l'assio ha già perso ieri contro il bologna la roma giocherà domani alle ore 18 mentre inter atalanta e milan giocheranno oggi pomeriggio e quindi una juventus che da quel punto di vista lì potrebbe avere o la pressione o il vantaggio di conoscere già i risultati che cosa spingerà max allegri a tenere un atteggiamento piuttosto che un altro beh l'affermazione è chiara credo in diciamo insindacabile sulla quale bisogna concentrarsi è quando in conferenza ha parlato di della fase difensiva della difesa di una difesa che sta facendo il suo coadiuvata da una mediana ma alla quale non può non essere richiesto il sacrificio anche agli attaccanti e quindi una juve che deve continuare a lavorare compatta tra i reparti perché non è stato fatto nulla anzi a quanto di buono è stato fatto fino ad oggi potrebbe seguire un eventuale qualora ci fosse una prestazione negativa del diciamo della squadra e quindi che non desse la consueta compattezza difensiva potrebbe seguire il fatto di sgretolare tutto quanto di buono costruito sino a questo momento perché ovviamente l'obiettivo citato resta ancora la qualificazione della prossima champions league all'entrare nei primi quattro posti per farlo bisogna passare attraverso sfide difficili importanti come quella dell'artemio franchi contro un avversario che lui ha definito costruito molto bene una fiorentina che può lottare per i primi quattro posti tranquillamente perché è una squadra molto forte molto più forte di quelle affrontate nelle passate stagioni quindi domani sarà una sfida difficile che dovrebbe ripeto giocarsi nonostante le condizioni meteo che sono in miglioramento ma che pioggeranno in prossimità della partita un pensiero sempre alle famiglie che hanno in questo momento pensieri ben più gravi a cui dedicarsi e poi ci dedicheremo noi qualora si disputasse al commento di Fiorentina Juventus auspicando che possa essere una gara che possa dirci davvero di che Juve siamo fatti perché io l'ho detto questo è davvero un crocevia molto importante dopo Milano dopo la sfida con il Leverona che veniva dopo il successo di San Siro e dovevi tassativamente vincere quindi sfida difficile arriva una sfida molto più difficile perché devi confermarti e lo devi fare in un campo ostico contro un avversario insidioso e sappiamo tutti quanto a Firenze la Juve abbia sempre incontrato particolari difficoltà ditemi la vostra vostre sensazioni commentate ci sentiamo presto come sempre fino alla fine Forza Juve ciao